Ci stava facendo un'istruzione, una lezione sui vari tipi di Fursuit, no? Ah, poi la faccio anche te, Matte. Va bene. Perché se vedi com'è, quando è che Luca è diventato un furry, quando ha scoperto questa sua passione. No, no, l'ho già detto. Mi stava dicendo, l'autogestione. L'ho già detto io nella live di P.Escape, quando praticamente lui da bambino aveva un piccolo proscione. E allora non era attirato ancora, no, da questo piccolo proscione. Solo che un giorno, c'è anche un disegno che ha fatto The People, lui inoltre l'aveva già mandato nel canale. E insomma, questo piccolo proscione un giorno gli viene regalato un completino da operaio. E Luca sente qualcosa sul suo pisellino, su qualcosa che si muove. Questo è qua. Ah, ok. Ero tutto preso, sono sincero, ero molto preso. Dove volete andare? Io giungla. Io dove volete, io ero inoltre il disegno che ha fatto The People durante quella live comunque. No, io in realtà voglio dire che durante l'autogestione, tra l'altro Luca ha fatto... Ma voi sapete cos'è l'autogestione, sì? Come se fosse un chissà che cosa di... Che vuole? Di giungla, giungla. Io vado Xerath mid, dai. Ho già le rune. Alice. Insomma, durante l'autogestione... Soporto io, dai, Dado, supporto io. Ah, Luca ha fatto una lezione sui Pokémon e i Digimon. E in quel momento è diventato un furry. Non loccate che ho bisogno delle rune. Sì, tranquilla. Le ha visti, ha pensato... Ha pensato, ehi, quello potrei essere io. Ehi, ma potrei essere io visti? Alice, perché non posso dirlo in live, scusate. Grazie. Cazzo, no! Comunque, amici, ciao! Ci sentite bene? Ehi, è vero che posso ascoltare la musica in live. Un feedback sui volumi. Sui volumi. Volumi. Per favore. E poi questo. E poi lui. E poi questo mi ha detto. Sei veramente bravissimo. Ok. Ok, lo ho detto. Amici, tu mi puoi sentire. Non ho la voce, io oggi. Diamete. Non farlo, Dado te. Dado. Ragazzi, qua, che si è ritorno. Mi ha invitato per il mal di cuore. Passa al teleport. Non mi rifiutare un invito a ballare. Eh, lo posso levare io, eh? Mi metto di Ignite. Mi volevo andare di Ignite, io, eh? Me lo metto io in Ignite. Ok, allora, no. Ah, qualcuno lo metto. Tenuto, tenuto. Ma che la paura di mamma, da. Hai paura di mia mamma, Marco? Abbiamo cambiato l'interno. Come si chiama tua mamma? Come ti permetti di avere pur di mia mamma? Mia mamma è una santa do... Non è vero. Come si chiama? Ciao, Espo. Ciao, Espo. Ciao, Espo. Garen Topload. In maniera totalmente inaspettata. Mia madre si chiama Doneta. Si chiama Leonella? Antonella. Peccato. Clerici? Qualcuno lo cazzo. Oh, cazzo, ci sa Rengar, che palle. Ma Veigar... Veigar non sta Gnar. Eh? Veigar Support. Veigar, livello 9, potrebbe essere davvero livello 9 perché c'è Alial. No, perché non l'ha ancora sblo... No, all'8 si sbloccano. All'8 si sbloccano. Anche perché non potrebbe averci neanche se fosse... Ciortyom! Ciortyom! Siamo contro Jinx, un po' piango. Massacrala. Amici, i volumi, diteci per favore, dai. Alice, posso dire che sei... Oh no, c'è Shen, non fa... Che bella quella skin di Shen, comunque. Ma Shen è bello. Tanto... No, Alice, che dice, è bella. Marco, entro e devi diamare di madre per guagliare. Marco, ci fai parlare con Marina, per favore. Ho detto di... Il live, Marco. Me ne va, basta, io me ne vado. Ciao. Ciao, Marco. Ciao, Marco. Insegna ai cavalli come... Ah, ma so! Che cazzo, sei entrato su un'altra stanza di Discord. Ah, che cazzo! Ma dico, come cazzo faccio a sentirvi ancora? Amici, quindi... Sciavole la tua testa. Quindi vanno bene i volumes? Mi sono shikaka, io boh... Io che avevo mid? Sto cazzo. Avevi... Megar forse. Ok, posso benissimo andare Dark Sigil, sperando di... Ma tu quanto ho detto? Che te lo giro di Marco? Eh, ma che ho detto, mi serve per la build. Ah, non è vero. Puoi giocare anche senza il... Posso giocare anche senza, però mi trovo benissimo. Posso giocare senza Dark Sigil. Devo stare molto attento, ma all'inizio... Sì, sì. Gancano! Eh, vado o non volevo. Arrivo, arrivo, arrivo. Vieni verso la... Corro il più veloce possibile. Marco. Vabbè, basta. Marco, occhio, c'è Luca, si... Diventa strada. No. Lasciami mettere la spada. Il cazzo è sto carretto, scusate. Però io, è il mio recall. Ma se, ma sei un abbonato? Qual è? Qual è il tuo recall? Sono Xaia dei Samsung Gaming. Al massimo, a basso Marco si inizia a ru... Ah. Sper me sono a posto, a posto. Mi sa che questa cosa è la scritta Michilo, fammi leggere. Sì. Sì. Ciao Artiome, ciao Espo. Michilo Ordi, c'è il tasto del ban lesto. Metti, ma io ho gli occhi che brillano. Come? Eh? Fa vedere? Eh, vedi. Guarda, guarda... Alice, sei bravissima. È vero? Alice, come fa? Oh, non ho premuto Cooper e sbaglio. Vabbè, tanto c'è... Marco, non è mai per sbaglio. Non c'è la mid, non c'è Baker. Ah no, è freddo. È coglione. Quest'uomo a volte parla veramente in maniera... In maniera fallica, possiamo dirlo. In che senso che sono lesso? Che ci aspetta? Guarda sto cretino. Perché hai detto che c'è il tasto lesso? La troia, però, con gli anni l'ho fatta ancora prima di me. No, ho detto lesto? Qua non c'è nessuno, eh. Perdi il primo minion, no, no. Perdi il primo minion. Anch'io ho perso il primo minion, ma... No, non l'ho perso. Ah. Ma se... Ok, c'ho un Furry qua. Eh, Gnar, sì. No, hai rotto il cazzo. Ora Luca te lo conosce benissimo. No, è... Ma come trolla? Luca, tanto sappiamo che c'hai... Ragazzi, facciamo una full speed con Gnar e ci infiliamo tutti dentro. No, è che poi chissà, Luca, che... Ah. Marco, anche io dopo proverai sensazioni strane con tutti poi dentro, io ve lo dico. Questo linguaggio molto scurrilevole. Ma non è... Ah, porta lui. Ma che danno fa? Scusatemi. Mase? Mase, io sono molto deluso. Anche io. Ma se lo te non me lo aspettavo. Guarda come trolla questo stronzo. Amicizia finita. Ranship Uva. No, perché un po' di vita stronzo. Però è un po' esagerato, eh. Menomale che c'era lì, ci teniamo tipo 300 HP, sono esploso. Io se ne sono meno male, c'era lì. C'era lì che potessi vogliare, sono esploso in un istante. Ah, sì. Quattro furri all'orizzazione. Guarda che se la prendeva, in che senso c'era lì? C'era lì? Marco, io ora... Tu parla così ai miei amici. No, il supporto orale. Ah, il loro... Eh certo, perché deve fare danno, no? Esattamente, Arti. Ho messo... Mi so che io intedesse quello. Serve il mano. Vedete il canone, è qui. Allora... Quanto panzarma... Ciao, ciao, qui, 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 venga. Ciao, Ibu. Mancava, sono morto. Ah, vabbè. Vabbè, dai, uno paria. Uno paria. Jungler viene su. Ciao, Clemente, Alberto. Ciao, Ibu. Sì. Non riesco a farmare manco un minion, porca puttana. Ma sì, mi sono aumentato molto. E io spero che questo comporta... Lui, 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 lui. Ci sono, ci sono. No, no, non vado. Ci ho fatto vedere dov'era. Tanto mi serve Maram. Muori, stupido Granchio. Marco, queste parole miei amici crustacei. So per dire rettili, ma rettili c'è... ...l'altro, stasera. Piano con le Pierluigi, cosa? Piano con i Pardo? Eh, sì. In pantaloncini, magari. Oh, che cosa vuole, sto cresciuto di merda. Cresciuto? Non hanno usato Liel. Tielo. No, non hanno usato Liel. Ha usato... Si è messo la cosa a terra per curarsi. Ah, giusto. Senti, non me lo prendi, stronzo. Riesci a tenerlo? Sto arrivando anch'io. Marco, Marco, Marco. Ho perso di me. Dannato Furry. Ho finito il mana, davvero. In faccia a lui. Lo prendo? No. No, non ci credo. Ha flashato. E ha flashato nulla. Ha flashato bene. Ciao, Simoniculo Verde. Ciao, culo verde. Qual è la B? No, la E. Non ho il dash. La lettera dell'attabeto che viene dopo l'A. Simone, 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 ti voglio al più presto leccar. Ah, Marco, c'ha 17 anni ancora. Allora, questo è stato a Mila Pilani, non avrà 17, posso leccarlo. È vero. Simone, ti lecco il crociato. Cacare, 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 cacare. Simone, ti lecce, cacare. No. No, tu, Simone, va bene se ti lecco il crociato. Mmm, dai, lo sai che c'ho la saliva curatrice. Cosa? Ah, sì. Ah, infatti, durante le ragazze, che si muovono, eh. Quanti cazzo di danni m'ha fatto con un autoattacco, un support a P. Ti fanno i, Marco, vuoi essere di nuovo vergine, puoi venire con altri. No? Esatto. Sì, sì. Volete un ganchino bot? Marco, io voglio un ganchino comunque tu vuoi. Eh, ragazzi? Ma guarda. Ma questo Veilar non ha preso la gabbia, non la sta usando. Stai zitto! Che cosa? Marco. Eh, ha capito? Stavo chiedendo del ganch bot e te parli sopra. No, no, vai pure. Non si vede il... Ah, non ha fatto l'algo branchio. Il support. Vi prendete il cannone? No, mi ha visto... Quanto lontano sono, però... Ha bluato il pappo. Il papa? Porca puttana stronzo di un Rengar di merda! Vieni qua! Vi faccio vedere chi ce l'ha più corto. Eh beh. Le sfide di Marco. Ehm, bard qui? Eh, l'ho detto che non mancava. È top, è top. Eh, io me lo sto facendo... Cazzi! Ma devo guardare. Ok. Io non giallo. Ayrou. Va bene. Eh, to' sopra la spada. Quanta vita hanno? Abbastanza per dire che fanno... Oh, cazzo! Occhio! No, è loro troppo. Stado, beh, sto venendo da te, eh? Eh, sì. Vabbè, ci proviamo lo stesso. Eh, ho lasciato un attimo la mezza. E mi ha stordito, anche. Stai a pezzi anche Rengar. Ehm, quanto male. Prenditela! No, cosa ho fatto? Ho sbattito. Hai ucciso, però. 3, 2, 1. Muoglio per i minion, muoglio per i minion! Sì, l'ho ucciso perché mi ho messo l'ignite, ma... È che ho colpito il drago. Mi sono sparato due... Eh, aspetta. Ah, hai triggerato il drago. Vabbè, vabbè. Mi sono sparato le due pozioni che avevo. Oddio, che stanno le basce, lo stai lì, raffrontare un coso che fa... Marco, arrivo. ...come Jinx è un coso che fa una caterva di danni. Ed è il support. Che cazzo. Ok, ha fatto una cazzata. No, niente, niente, niente. Guarda, gli terramano un botto, va? Non ti ho fare un cazzo. Ma la top è 1v1, sì. Eh, c'è il... Simone, c'è il... Simone, c'è il... Simone, c'è il Simone, volevo dire... Ai, Luca, come ragazzi ti chiami? Marco, che c'è? Marco, questo è peggio di quando... Di quando... Di quando Airo ha preso Irelia. Ma sto cazzo di Bard cosa fa? Ma scusa, ma che è? Fa tantissimi danni, è quello che sta dicendo Maze da una vita. Maze, non cacciamo Luca dagli unitori? Però ha ragione. Eh, oh. Lo so. Lo so che è che è giro. Era subito una cosa. Ah, allora sì, ok, sono d'accordo. Eh, ce n'ho due, ce n'ho due. Maremma impestata. Eccolo. Bellissimo Bard. Ma c'è solamente una kill. Come fa a fare tanti questi danni? Io ragazzo come vi abisittano. Eh... Oh, il cavo delle... C'è il cazzo aggressivo, ma... Ok, vado a farmi il rollo. Mi si è disconnessa la tastiera, aiuto. Ok, sei riconnesso. Ma ho iltato Jinx e mi ha colpito. Perché ha... Oh, puttana. Ciao. Eh, sì. Eh, la due... Anche a noi è capitato spessissimo ultimamente di avere la due top. Non capiamo il... Cioè... Prima c'è che da una partita abbiamo stravinta che non c'avano la giungla. No, ma teoricamente non è due top. Solo che vi si... No, 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 no. Diceva in generale lui. Non posso ancora... Detonare la data. Arrivando la data. Ma chi è il detop? Chi è quello? Maremma o... Agnar. Agnar. Ah, ti ha adevato. Bellissima dado. Sì, è un cretino. Ma con Gnar puoi devare, ma devi essere sicuro di uccidere. Vengo giù. Non devi essere un cretino. È stato un cretino, quindi. Alla ulti. Eh, ok, è arrivato Veigar finalmente. Vieni. Eh, recollo top. Ah, fanculo, l'ho mancata. Ok, te. Sto arrivando. No, l'ho mancato. Ok, ok. Eh, qua ho fatto una cazzata io. Mi hanno salvato i minion. L'ho visto. Ma niente. Sta arrivando Rengar giù. Ma davvero? Ma quanto tempo rimango presi? Va bene. Eh, va bene. Fermo a stannato. Sta arrivando il jungle. Eh, attenzione. Metture. Ma pure il rosso, questo. Eh, va bene. Via. Piero. No, vai via via. Non dirmi che è. Vai via dal basso, soprattutto. Non dirmi che è Piero. Come sei arrivato laggiù? Eh, pensavo ci foste. Ma come ci facciamo a essere se stiamo così arretrati? Eh, non lo so, pensavo... Arretti. Ma poi si è andato avantissimo. Se... È bella, l'alai. È bella, l'alai. È bella, l'alai. È bella, l'alai. Qual è la ciparola, l'alai, l'alai, l'alai? Non ho capito. Carletto. Ancelotti. Niente. Eh, prova a venire. Non so. Ciao, buone. Ciao, buone. È diventato un full ricrosso. Eh, sto arrivando, Mas. Aspetta, perché c'è il jungler loro qua in zona. E mi preoccupa alquanto. È appunto... Ho fatto un onore, Mas. Tu sei veramente arrivato dal fiume, vero? Ho sbagliato, sì. Ho fatto un errore. L'avete visto? Ce l'hanno fightato? E voi girate dal fiume. Perché passare per di qua, no? La rotta indicata da Dio, quella è. Ah. Non lo sapevo. E adesso lo sai. I dieci comandamenti. Da, tu arrivo. Dato. Maremma. Non seguire Marco, Marco, Marco. Sette le livelli sopra. Eh, intanto la mid. Stanno buttandoci. Oh no, vedi che... Oh no, è di interlocicione. Doveste andato. Maserotta per casa di Dio. Senti qui, eh. Però Dio prendo. No, vai a dare qua. Potrebbe... Oh merda. Eh, va bene. Oh, tarò. Addi. 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 Ragazzi, io da quattro minuti propongo una cosa. Termino di amore. Marco, secondo me quella cosa propone fare il Baron. Sì. Fare il bagno? Ah, mi ha messo in stasi, il maledetto. Ma che cazzo mi rappresenta comunque che barda faccia tanto questo male? Fa un culo bard. Eh, ma un casino. Ma che è? La unicum. Ah, praticamente quel Vakers al 9. Amici, avete visto lo Stintosh oggi? Gli Vakers stiamo facendo la nostra partita. Uh, grazie della ultis qui, cazzo. Dopo mezz'ora. Ah. Come? Luca? 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 La tua culla ha fatto... Luca? E' esplosa? Ah, Luca? Ha fatto lo Yamete? Ho raggiunto note che non dovrei raggiungere. Arrivando. Sono cagato in mano. E' stato bellissimo, fammi clipare. Ma non gioca. Eh no, vabbè, sono morto. Ma mancano 6 secondi. Ma che cazzo è questo? Ma no, ma clip con i tasti. Ma invece di per la gioca! Ero morto! Via. Luca, dica che hai rincere. Luca, quando hai che fai coming out? Luca, quando hai che fai la doscia? Eh. Solo con te, Dado. No. Ah, vedi, vuoi Marco ma non me? Sì. Cioè no. Non voglio nessuno. Ma è possibile che abbia sbagliato? Mazze, che smite devo farmi con questo? Ma è indifferente, Marco. Stanno facendo un drago. Dio, questa partita l'ha guardata e si è voltato. Stanno facendo un drago, ci provo. Ah, ma stanno streamando, quindi. No. Non ci sono riuscito. Ma Rema! Mi ho dato l'acquist. Mi ho manculato. Mi ho manculato. Niente, formaggio nella pasta col pesce. Esatto. Arrivo, squi. Ma cazzo. Addio, squi. Ma che partita l'hanno in merda, ragazzi. Ma che cazzo mi rappresenta? Questa Bardino. Sto Gnar comunque sia è un... Ah, Bardi è qua! Arriva l'ulti di cosa? Ma porca, l'ho presa in faccia. Da me? Mi ne vado. Me ne è dato. Non ho la mia ulti. Bravissimo, Luca, comunque. Eh, ma m'ha ucciso. A fightare lo stesso. E ne... Tanto ce l'aveva al culo. Non ero sicuro. Dovevo usarla... Eh, in realtà. Lo stordivo sotto torre. Sono stupido. Secondo me si può ancora continuare, comunque. Eh, Bardi è comunque all'otto, cioè. E prende tanti danni. Sì, puntiamo al late game. Cazzo farà Bardi. Ah! Ah! Eh, attento, ma... Cazzo, i danni che fa. Guardi, hai scoperto le gioie del sesso anale. Sì? Ok, sto andando... Sto andando mid. Se Bardi rimane mid, lo dovrei spare. Ehm, Bardi viene top. Bardi viene top. Dado. No, no, attento. Ti arriva Bardi. Eh, vabbè, ma che cazzo sta cadendo, top. N'altro. Qualcun altro va a venire? Padre Pio, vieni te, dai. Ma quanto, Romano? Arrivano. Romano! Marco, Firenza, no, anche. Scorrerò. Scusa. Mi aspettavo venissero dal fiume, vabbè. Grande, depingo. Dai, due fioppi. Eccoli. Arrivo. Mancato. Dai, abbone. Morto. No, me l'ha spostato. Guardarlo, mi ha fatto attendere 40 minuti in più del previsto. No! Eh, va bene. Ma che cazzo sei? Eh, è la ulti, è la ulti. Vai, vai, vai. Vai via. Vieni via. Ma quando se ne va quel Cristiano Ronaldo lì? Ho mancato tutto. Tana, potessi fare dei danni, no? Mentre... Ulti. Guarda. Luca, 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 Luca. Ehm, sono entrato con te. Ciao, Luca. Odo. Non doveva entrare. Oh, ho fatto il Rabadon, però. Ora faccio veramente tanti danni. Ah, vedi, il Liverpool è a zero al secondo tempo. Contro? Ho miscliccato. Mase. The people c'è la con te. 3-0 del Liverpool. Se fai il 4-0 festeggiando. Eh, baffanculo! Al calcio! Chi cazzo lo sapeva? È fidato, eh. Sono allo stesso livello, lui è dato. Sì. Ah, e allora sono io che sto indietro. Sì. Ma quando l'ho fatta, sei chi, quel Gnar? Scusate tanto. Ehm, no, non lo so. Io non dò due di quelle, sei. Io non dò uno. Io, Gnar, no, non mi ha... No, ora mi ha ucciso. Io ho fidato Bard, e ormai Bard è riprendibile. Attenta, arriva, mi ha dato... C'è una Borde mia lì in mezzo che... Vabbè, è tornata a usione. Vengo bot, con calma. Sto arrivando anch'io bot. E niente, squirripa. E' out, mazzo. Ma il male che fanno, ragazzi. Ma Bard è male. Può mettere in... Ma perché non è che ha fatto un personale, Bard? Può evitare i danni dalle torri. Ti rallenta se ti colpito la vedita, poi ti stordisce. No, attento, Marco, Marco, attento, attento qui. E poi parte l'elettro, Ghiuto. Eh, Marco. Eh, dai la mia mano, forza. Mi ha preso una volta, cazzo. Non ce la credo. Dai, 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 dai! Sì! Ah, cazzo. Minecraft? Dai, prova a stunnarla. Ma cazzo. Vado di qua? Ma dove vai? Ah, dove vai? Io ci starei. Ma a regerlo... Ah, Ghiuto! Ma ha fatto esplodere il coso, ha ciccato malissimo. L'era qui ancora. Eh, vabbè, ragazzi, ce l'ho due in top, che fa? Ah, ecco. Arrivo. Cioè, teleport, non lo posso fare. Con qua mi arriviamo, dai. No! Dai, fammi la cosa. Marco? Ehi! Cosa hai detto? Perca puttola, perca puttola, perca puttola. Tranquillo. Marco, non c'è andata da solo che c'è anche il furry. Arrivo, Marco, 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 Marco. Tu sei quando era ulti? Eccolo. Il furry è qua. Dai, dobbiamo! Eh, non posso. Sto a tenere il furry. Quattanto è la mia ulta. È stato un onore. Da, non andiamoci a fare il furry. Praticamente. No, c'è anche Vey, cara. Attenti. È meglio. Ah! Ancala bot. Eh, no. L'ho detto. Buono. Eh, però ci ho bruciato il movimento. Che cazzo è? Merda. No, non ci sei più, te. Eh, dai, maledetta la vita. Presente, futura e prossima. Ah. Ah, loro... Ah, sì, il dragon l'hanno fatto allora. Ma dai! Occhio, squacqua. Marco, 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 il bardo. Surrender. Bravissimo, Marco. Prendi tanti danni, bard, comunque. Bravo, ma serati amici 91. Non è finissimo. Wow, 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 è la fine. L'ho ucciso? Eh, no. Cioè, nonostante... Sì, sì, sì. Lei abbia sei kill e io ne avessi zero, l'ho ucciso. Eh, ho fatto il più danno possibile a questo. No, eh, se guarda, se ero in range, lo ultavo. Ma non c'ero. Se ero in range, lo ultavo. Ero proprio non... Dei piedi, margine se lì il pull fa 5 a 0, quanto mi incazzo. Ma anche se le fa 3 a 0, eh? Eh, abbo. 4 a 1 al novantese. No, non c'è l'ho. Mase, Michiro chiede di mutarmi perché sono fastidioso. No, lui... Michiro, mutati la vita. Dice, Mase, muto Marco, non muta Marco. I'm out. Hai. Michiro. Oh. 600. Arrivo. Ma sono molto lontano. Eh, no. Per 3 minuti, dai. Ho provato a mettere il coso. Ho fatto una cazzata io lì. Tantissimo, non dovevo andare. Io provo a fare stame amicchiata. Venga, te lo fai. Eh, vabbè, ragazzi. Vi ha lei il flash. Wow. Madonna, che fastidio quella ultima. Quanta gente in top. Oh, ma che cazzo è? Che cazzo è, cazzo? Hanno sciolto il... Dato. Credevo fossero squizio a scrivere perché stava reggiando. Di cos'è? Michiro, ti allungo il coso se mi fanno l'altro medio, eh? Stun su stun. E con cosa non intende il WiiWi? Marco, perché... No, Marco, perché questo video è sbagliato? Non pensavo ce ne fossero in due. Eh, bardo, 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 bardo. Ma scusa, ma la terra non gli fa male? Che cazzo è questa storia? Sì. L'ha zoniata, sì. No, non l'aveva zoniata. L'ha tencata. Vediamo se... Airo ha bannato Antonio. Airo basta bannare i nomi a casa e poi c'è qualcuno davvero con quel nome. Io me ne immagino che Vieri si trova bannato. Povero Antonio, pioniere di Twitch. Ma sono io Antonio, ehi! Eccoti, ti aspettavo. Eh, muori. Esatto. L'ho mancato, è stata una cazzata enorme. L'ho mancato con lei, mi ha sciolto. Se lo posso stordire, gli faccio danni, ma se no, niente. È lì, in mezzo. Eh, grazie. Attenti ad andare comunque... C'è una ward. Dai, ora vanno... Eccolo, eccolo, eccolo. Questo regime del terreno non mi fa nada. Guardate no, buone, te sei... Ma buttate giù la ward, che favore. Ed è qui, c'è una ward, qualcuno. Niente. Dovevo flashare e huttare, ma... Ma anche noi possiamo passarci dentro? Sì. Non lo sapevo. Nei portali, eh, questo è interessante. Guarda vicino al portale, ti esce pure la freccina. Non... Ma ward mi cazzo, bardo. Sono sempre andato dall'altro lato. Sì. Sì, sì. Ma non dirlo prima che è ward. Porta figlia. Ah, c'è neanche l'ulti. Non dire, Marco, finché non ce l'hai nel sacco. Ah. Sto venendo verso l'ultima... Dal fiume io. Stana. Arrivo. Sto venendo verso l'ultima. Aspettate. L'avete quanto spostato. Bella, arriva... Torna ward. No, ma scherziamo. Voglio fuggire. Guarda qua. Ragazzi, non posso muovermi dalla porta. Questo... Eh, cazzo. Ragazzi, non mi siete davvero dati. Vedrete il combattimento. Eh, ma... Marco. Con 88 HP se vuoi restavo, ma... No, ci avete sotto gli altri... Eh, sono arrivati gli altri. Tu ti hai avuto la stessa idea. Stavo premendo anche i renditi. Continua la cosa che in live non se ne vince mezzo, però, no? A buono, comunque non ti banneremo. Dobbiamo vincere, va bene. Dado. Mase. Hanno detto che dobbiamo vincere. Ah, ok. Quindi fate la coppia... La coppia... Morgana Jinx. Io voto la Squeeper che mi ha salvato la vita con un ulti. Io voto la Squeeper che nonostante abbiamo fatto una botlane e Bastard abbiamo mantenuto la calma. È vero. Io voto me stesso perché sono bello. Io voto la Squeeper per esercire dei danni di Marco che gli ha montato la gamba. Non è mai successa una cosa simile. Io sono testimone diretto. E vivo ha fatto di più. Hai fatto di più. Io non ho nemmeno... Più di quanto, Marco. Come si dice? In francese. In francese. In francese. In francese. In francese. In francese. In francese, ragazzi. In francese, guarda. Non si dice in francese perché sono dei pezzi di merda. Come aspetta cosa? È stato Pio? Il contratto è mio? Porco! Ah, ho capito. L'orto bio? Ma non avevo visto che l'aveva... Sei mattato davvero, Michio. Ah, sì, certo. E secondo te lo li do matto. Lo li time out. Lo li time out. Marco fa andare in giungla. Però non rubare le kill. No. Aspetta, ma l'alice dove va? Prima di tutto. Ok. Mi prendo la mid. Eh, se non volete... Volevate fare la bot lane iper cosa? Iper cosa? E quindi faccio il 0,25 perché l'ho detto, sì. Ah, ma avete detto voi? Io mi fido. Tu ti fidi di uno con la faccia come la mia, lì? Brenzo! Anch'io mi fiderei di te, Dado, però. Ci manca poco che la gente per strada mi chiede la roba. Lo vorrei vedere, però. Io no. Vai vicino alla st... Vai a Pisa nei pressi della stazione e ti fermi appoggiato a una colonnina. Qualcuno te lo chiede, è sicuro. Ah, Artimo diceva, lo porto io, va bene. Lo porto io. Ah, sì. Ehi! Guardati, adesso mi ritrovo Timo. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Che palle, non posso mettere la skin perché non ce l'ho ancora. Ma questo è scemo. Che palle, ragazzi, non posso usare questo champion perché non l'ho sbloccato. Ha! No, 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 il champion ce l'ho. Non c'ho il champion in rotazione. Credevo me la facessi mettere lo stesso. Il champion ce l'ho, non c'ho il champion. Ho sbagliato. Hai capito? Dado, Dado, perché hai dato la roba a Luke e non a me? Dado, perché hai dato la roba a Luke e non a me? Scusa, Mase, lui ha pagato. Sei un uomo di merda, sei. E io ho pagato, Mase. Ma che hai pagato? Non direi manco 4 lire. No, Mase, l'ora di Napoletano l'hai fatta nella 12 ore e ora per un mese non devi più farla. Ma un mese? Perché mi avessi in punizione? Purendo! Purendo pa... No, no, no. Aiuto, ragazzi, è andata via la voce di nuovo. Purendo pa... Bravo! Dado, se continua a fare... Che eravi schifo. E' stato schifo cosa? Ma alcun'altro ti eccitava. No, io voglio il Napoletano in live. Vespo, tu si chiesi una cane che capisci sta roba. E' un cane che capisce la roba? Eh sì. Ma è di vegli avversari, scusate. Ma vabbè, perché non chiede la voce di effetti io? 92, 81, 63. Oh, 5, 5, no, segna, 5. Vedi, segna. No, c'è un unicorn power. C'è un unicorn G power. Che c'ho io in mid? Oh, c'è il GGH. Oh, Irelia. Irelia? Capirai. Ma è sempre Caitlyn con l'acqua. Quante skin? Dato con il primo te ne devi andare a prendere per due di Don Mother Corleone. Bravo, Iovine. E' da più per due. Quanto è bella Irelia se skin, però? Garen ha 340.000 punti su Garen. Ma... E' Garen, quanti punti c'ha con Irelia? Oh, 159.000. Ragazzi, vi avviso che tutti i meme bridi... Questo canale non approvano l'utilizzo di sostanze superfacenti, psicofarmaci e alcolici. Esatto. Ah, è stato capace, in una sola frase, di dire più bugie di Salvini. Di Salvini quando ho già detto, io sono antifascista. Ma nessuno ha riso quando ha detto sta cosa. Poi si è lavato la bocca. Ma se il mio commento è stato, ha sbagliato account. No, forse stava facendo dello stand-up comedy. Madre, stai zitto, dobbiamo fare finta. Ma non possiamo fare finta con Dado che beve in live. Scusa? Ecco, percola. Madre, è solo perché ha un problema con l'alcol. No, è perché te l'hanno spacciato per succo di luppolo. Succo di orzo e luppolo. L'insorgenza di tumore prostatico. Ah sì? È vero? Il luppolo sì. Bene, allora non prenderò... No, mi tocco i coglioni mentre lo dico, però... Ecco. Quindi Dado, se uno si imbriaca a me, da bevine il... Eh sì? La prostata. Dado beve birra... Madò, non ho trassaggiata per sbaglio la birra un'alcolica. Fa schifo allo schifo. È come bere del piscio al limone. È orribile, è orribile. Come fai a sapere di che gusto sa il piscio al limone? Non voglio sapere, Dado. Ma tu mi sottovaluti. Dado, mi stai facendo la faccia. Dado, mi stai facendo la faccia delle cippe quando... Ok. Quando c'è la sborra, sì. Giustamente, qui ti chiede, quindi da che buco devo bere la birra? Quindi do you restore the balls? Se uno si beve la birra, previene il cancro alla prostata, ma gli si piglia la cirrose. Eh sì, effettivamente, perdi il fegato. Eh vabbè, ma il fegato lo puoi... Possiamo ricostruirlo, farlo migliore. Ah lì c'è una stampata in 3D, posso ricostruirmi il fegato? Certo. Sicuramente sì. Ma quando è che non andavo mid? Oggi ho pensato a questa cosa, perché sto facendo il tirocino in un... Dove cazzo sto andando perché sto andando in botto, ok. Ah, stai facendo il tirocino in botto, ok. No, sto facendo il tirocino dove cazzo sto andando. Bene, non si ricorda, neanche dove va a fare il tirocino. L'altro alimentare anche con marchio halal, che sarebbe quello per i musulmani che non ci sono cose derivate da maiali. Sì. Si porteranno in un mondo fantastico con 72 vergini. 72 Marco Cercello. Sono quasi come i testimoni di Java. Quasi. Però loro si fanno esplodere nei punti. Marco, ti immagino un mondo contentato a due te. Guarda, a me già mi rompe i coglioni di me. Già mi rompe i coglioni di uno di Cecetto. No, 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 no. Ragazzi, i Rele si muove troppo, che cazzo fa? Testimoni di Genova. Ah, quindi la run? Sì. Ragazzi, donate 6 euro per far sentire l'allora, per favore. E così Marco pensa che sia la run che è stata... Che cazzo? Ogni riferimento ha fatti... A clip per persone è puramente voluto. Ma... Gravissimo. Ah, sono facendo la provision dei pipo perché ho visto gare ambiente. Guardate con quanta vita è rimasta. Non lo so. Marem. Un colpo sulla spada squainata. Ne manca uno qua, raga. Che cazzo è la nave? Ok, no. Ufk. No, no, sta nel brush. Aspetta pazientemente. Ai 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 ai, Mario, Mario, Mario. Ai 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 ai. Potrebbe avermi rubato il rosso? Siamo iniziato da su. No, no. No, perché ero lì all'inizio, non hanno invaso. Ah. Eh, ma magari è invaso dopo. Non so se l'hanno fatto dopo. No, non credo. No, 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 no. È qui. Ma sì, ma sì. Ah. Ok, è dato. Oh, mio Dio, la mia EPS. La mia EPS. Sto facendo la mia vita. La tua EPS 3. Esatto. Ma quanto spawn agli arco-crunch? No, ho tempo di fare questo. Non ho paura. Stato, ce l'ho tirata con bocca a sti struso. Ah, boh. Vado, scusami. Perdonami perché ho peccato. Che peccato. A me quando gli elementari mi chiederò cosa fossero i peccati, io risposi quando uno dice che è peccato. Non ero molto serio, però. Perché non è che me ne sia mai fregato tanto nella religione. Maserati, MC 91. Ma dai! Ha fatto il flash della vita, sto qua. Ah, vedi? È ripartito Dado. Garai, mi sto giaccattando il cazzo in una maniera indecina. Beh, se lo fai avanzare lo chiedo. Anche a Mirelia, tranquillo. Vieni qua. Vai. Va bene, arrivo. 3, 2, 1, salto. Ha veramente fatto il stesso della vita, quel tizio, comunque. Ah, sì. Non farlo, Irelia. Eh, niente. Ti rovo un minione e me va. Perché si mette a correre, perché è grande, grosso e grosso. Irelia, non allungarti il codo. Marco, non parlare della religione, siamo in un canale cristiano. Dado, parla in dialetto toscano, per favore. Da me non c'è un dialetto, Airo. Sono delle parole, ma non c'è un dialetto vero e proprio. Ma il dialetto toscano... Irelia, per favore, levati dalle palle. Grazie. Quello rosso... Ma perché si muove così tanto questione? Devo aspettare un attimo. Eh beh... Ah, se mi mette 300.000 volte non capisco il pattern di attacchi. Ma che è? Quello le costa un bel po' di mana. Quale? Muoversi. Eh, fare tutti quei dash sul minion. A meno che non lo ammazzi. Se lo ammazza, tipo, gli costa la metà. Quanto è strana la skin al chirurgo di foto? Com'è strana? Strana! Non ho detto brutta. Vaffanculo, Vigro. No, le skinne realistiche nei giochi mi fanno strano. In giochi del genere. No, nel senso, ispirate a cose reali. Merda. Ma tu sei scema! Corro via. Oh, salve! Come un raggio di vita. Di porco. Eh? Eh? Di porco, ho detto. Ah, di porco. Un raggio di porco. Dai! Dai! Cazzo! No, non ce la faccio. So che era fraintendibile, ma ho detto un raggio di porco. Dado. È vero, però. È un raggio di porco, capito? Vai al porto e pidi un raggio. Perché non ci ho più mana, porca. Ciao, Michiro. Ciao, Michiro. Ah, squi! Eh! Questa è stronza. L'ho salutato, l'ho mandato a fare in culo, Airo. L'ho mandato per salutarlo. Ma è ovvio che non saranno usati da, comunque non saranno usati da, 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 da cerchietti. Non so come si convertono in euro. Avevate il loro jungle qui. Vado a vedere se si sta facendo il drago, ma l'avevo cura. Allora, va qui. Al cinque. Io lo saio. Ok, buono. Ok. Bellissimi. Eh, se avanzano li prova anche in care? Non avanzo, no. Perché dovessero essere gentile? Lo sai che non mi sentirai. No, non è vero. Hanno voltato ora. Perché io dovevo essere gentile con te? Michiro, sentirei questo messaggio. Se tu non lo sei con me. Eh, Marco, vieni al blu. Io lo do. Perché da me si glielo devi dare, si glielo devi dare. Dai, prendiamo Shane così ci divertiamo. No, non stavo che le andate a testa e glielo devo dare. Siamo tranquilli, non ci arriviamo. Ho detto te lo do. Ah, te lo do. Ho capito, glielo do. Ho pure la ulti, sto pezzo di merda. Su Bucaccio. Wee, Bucaccio. E che cazzo, è due. Marco, stessi ti piacciono i piedi delle mucche, lo sai. È vero. Waita un secondo, fammi arrivare. Aspetta, 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 vai. Ma no. Cazzo. Bravissimo, Luca. Eh, aspettavo di girarmi e ucciderlo. Uuuuh. Ma ti ristacco. Non mi avrai. Ma io ci sono, eh. Ma se l'ho tirata prima, ma tu non mi hai cacato. E mi siete allontanati, cazzo. Ci sono. Siamo seri? Che cazzo di miseria hai fatto? Dai. Va bene. L'ho rallentato. In questo scenario vedo quello che non c'è. Vabbè, basta. Andiamo a gancare mida, andiamo a gancare mida, andiamo a gancare mida, andiamo a gancare mida. Masa, però è golosa. No, io voglio la kill. Ok. Ma che cazzo. Ma sei scema? Ma sei scema. Anch'io per gancare mida. Ma cazzo di malefà. Ma cazzo, siete arrivati molto lenti. Anch'io voglio l'assist. Anch'io arriva un attimo prima. Venite al drago. Aspetta che c'è... Top mi sta facendo la torre comunque. Hai il teleport? No. Mi serve una mano al drago a me. Mi serve una mano al... Aspetta, non mi fa sto gran, ti vedo la vita. Recuperala col... C'ha i cazzilli. Lasciala a me che mi serve l'exp. Devo prendere l'exp dagli argogranchi perché... Ho fatto quello che mi ha chiesto, ti ho lasciato per la... Ah no, ho visto l'avessi... Ci hanno visto, eh? Sanno che si fa. Ho visto l'avevi lastita sotto te. No, va ucciso. Non ho lo smite per chiuderla. Bella. Ho benvenuto preso l'assist. Oh, cazzo. Eh, niente. Porca puttana. Eh, se lo prendono. Mase, perché mi mandi a fanculo? Mase, cosa ti ho fatto? Mase. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Per me è perché... In live siamo troppo distratti a parlare e a intrattenere. È vero. E a non bestemmiare, soprattutto. Mi aspettavo una ultima. Ma quanto cazzo ti muovi? Puttana di merda. No, te. Ho stato burwick. Ah, ok. Non avevo vista. 4-0-12 al termine, Mase. 4-0? Ma se quanto vinci? 60 euro. E vabbè, tutti mid, tutti mid, questa mid, sì! Perché ho giocato un euro. Due. Ah, voi che muovo. 2-0-12 al termine. Copri la mid, Luca. Risultato esatto a 60. Come? Risultato esatto a 60. 61 è quotato. Alla faccia del cazzo di due pippo. Eh no, mica tanta. Spero, sarà quotata a 200 alla faccia del cazzo di due mid. Ah, ecco, funzioni, sì. Luca, ma perché vuoi continuare gli altri livelli sopra? Perché devo coprire la mid. Coprire non vuol dire però che ti muovi da sotto la torta. Manca la botta. Ancora devo fare il senero la botta. Dovevo prendere il coso per l'ultimo. Ma che avevo fatto assieme? No, è vero, solo esattivazione! Luca, per fuori, non fidarmi. Scusa, vorrei far male, grazie, stronzo. Vieni sotto il torino. Ma dai. Sto arrivando qui, visto che è avanzato, vengo per un gant. Mase. Dammi un attimo perché sono lento. Vedi come sto mantenendo un profilo basso. Un profilo basso, non sto tirando, sto mettendo in mezzo nessuna delle verità di Fatima. Il cazzo del pippo qui ne ho con due euro. Ancora? Eh, aspetta, ci sono dovuto allontanare perché stavamo multando le cose. Eh, vabbè, no, sì. Ma che ti aveva multa? Prima. Ne avevi anche il capo? Allora, se lui ti multa, non è che allontanandoti eviti la sua ulti, eh? No, eh, speravo di farmi seguire mentre ultava. Mase. Che la sua ultima. Sì, sono a... Bellissima, Squi. Grazie, contestamente. Ha. No, hai giocato molto bene. Attenta perché... Ragazzi, la coscia ha iniziato a vibrarmi, cosa significa? La coscia? Sto venendo in un forza a pisello. La coscia a sinistra. Ragazzi, la coscia ha cominciato a vibrarmi. Cosa è che ha iniziato a vibrarmi? La coscia. Ragazzi, non so dove si era Elias dal bot. Ma, sai, ti chiedo scusa per questo comportamento impietoso. Impietante. Impietanza. Impietante. Poi, ho pensato che una volta mi ci divertivo pure a giocare a mid. Marco, perché non hai vega. Ma anche detto che questi non muoiono, eh. È vero. Ma anche detto che siamo in live e in live non sappiamo giocare, tranne che nella sfida sacra. Siamo 3-0-2, stupi. La sfida sacra. Ma quando io... Vai, Marco! Vai. Marco, cosa ho sentito? Tutta la combo, Marco. Eh, ma dai, sì, va bene. Torre, per favore, torre, fai qualcosa. Non ho comprato le pozze. Non ho... Non ho comprato le pozze. Ma attacca loro, attacchi i palazzi. Ma che ho fai? T'attacchi, 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 ti continuo. Eh, no, no, non ce l'ho. Non... Ma cosa non ce l'ho? No, 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 non lo farai. E va... Cioè, Luca non ha le... Dato, usa il cielo. Dato. Non ce l'avevi il cronografo, vero? Sì, ma se ce l'avevo. E qui Warwick! Mase, mi sono accorto quando è arrivata che mi stavolta... Salto, vai, me ne sono andato. Mi sono accorto solo quando mi è arrivata in faccia. Warwick ha fatto il nostro blu, eh, comunque. Piripiri, piripiri... Cioè, sta a due livelli sopra per quale motivo questa che mi ha ucciso solamente una volta? Perché abbiamo dieci kill di differenza. Eh, ok, però mi ha ucciso solamente una volta, che cazzo. No, non arrivo. Eh, va... Non arrivo, me ne vado. Marco, guarda la differenza dei minion. Tana di merda. Ecco, pure, sì. Due a otto attacchi di gara in questa torre cade. Ma va. Due via, aggiornami, due via, aggiornami. No, ce l'ho aperta io, ma se è ancora 4 a 0. Ah, sì, invece. Quanto panca, quanto panca? Sono alle 85, se mi dice l'app. Non posso aver... Essere salito di livello ora. Vai. Sì, vediamo. Tutto tuo. Oddio, bravo, Luca. Occhio a Warwick, Luca. Tranquillo, l'avevo calcolato. Eh, ce la fai, eh, se continuavi. Vabbè, non importa. Ma vai, guarda, guarda. No, non posso saltare. Non posso inseguirlo. Non c'ho la mossa, c'è un cooldown enorme. Vai, peck. Eh, stessa cosa mi nascondevo per andare back. Ma puttana, trova come cazzo corre, ma dobbiamo dare anche cancro. Oddio, Alice. Alice, 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 puoi farlo, ma non ora. Non mi è segnato. Sì, ma ho avuto molta paura. Ho fatto molto ridere il puoi farlo, ma non ora. Guarda quel Warwick lì con un cazzo di vita. E per favore, io sono andato... Quanto si è accurato. Perché si cura Warwick? Eh, vabbè. E piglia, Emilio. Grazie, Ivan. E piglia quella... Quanto la cura, però. Guarda, la Tarita c'ha... La... Ho visto, ma... E' tornata, Tereglia, Mirza. Senti, lui non è più qua. Oh, è una... Tereglia, arrivereglia, arrivereglia, arrivereglia. Mamma, squiii, mamma, squiii! Mamma mia. Arrivareglia, attenti. E' venissere, Emilio, me la fa... E' qua, vi è qua. Oh, il bastardo! La missata! Arrivo! Non m'ho preso lo... Non m'ho preso il cronorco. Come un altro altro. Allora l'ha rentata tutta volta. La facendo da soli. Masè, cos'è che ho sentito? Bravissimo. Eh, drago, 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 drago. Cos'è tuo zio, Marco? Non ho... Eh, Masè, non ho preso. Io ci muoio al drago, eh. Com'è? Lo tengo io. Lo zio? Eh, no, non importa. Grazie. Sì, è un uomo molto simpatico. Non statemi accanto, però, se tengo io. Ma, guarda, basta che ti metti nel lato opposto rispetto a me. Eh, sì, appunto, stavo andando. Non ho visto un ario, vedo. Le strade, infatti, c'è caso. Ci stanno sempre quando non gioco gioco. Oh, guarda. Faccio schifo. Faccio la Karen. Marco, lui. Te prego, lui. Eh, mi preghi lui. Guarda come fugge. Adò, fastidio, Karen. Porca troia, sono già tornato. Ma quanto corre sto Karen? Eh, infatti, bisogna buttarlo su. Purella Karen. Purella Karen? Scusate. Mi riuscire a fare in genocidio. Attenzione. Per indicare la strada. E porca puttana, lui ovviamente dove esse qua. World Week mi seguo. Non mi dice, full combo non gli ho fatto danno. Sì, infatti, appunto. Ok, c'è stato un altro visto. Io c'ho Warwick dietro, eh. Senti, coso. Arriva anche coso. Conservati salto, conservati salto. No, mi sono salvato. Cerco. Eh, lui no, lui non ce la facciamo. Dunque mi fa. Poi torna di Lelio. C'è una bordo di vita quello. Come si countera? Armatura di Warwick la counteriamo con la Blade of the Ruined King. La Dead, Iide, Iide. Ho capito tutto. La Blade of the Ruined King. E vaffanculo. Raid. Ruined. Io qui non ci faccio nulla, però, a parte tutto. Devo andare a livellare io, perché sono solo all'otto, voi siete all'undici. Riescono a nonno. Beh, ho visto da spi. No, attenzione. 3, 2. Io sono l'unico che non riesce a far danni con Brand, praticamente. Eh, sta tornando in top coso. Eh, adesso salgo. No, non è vero. No, non è vero. Ok, non è vero. No, non è vero, non è vero. No, che cazzo vuole. Dai, dai, guardami, guardami. Su, dai, vieni, 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 vieni. Su, dai, bellezza. Sì, dai. Bellezza, poi a Garen, parliamone. Perché non mi tira i due? Che bella la spada che torna. Ciao, Masi. Eh, ma tutto, tutto. Arrivo. Ma no, Masi, non ha fatto un cazzo. No, no. Oh, merda. No, 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 non venire, non venire, non ci serve. Faitarli ora. Mi chiedevo anche la mia risposta. Ciao, Masi, che non funziona. Eh, non vedi a sottotorro, perché... Marcia. Non venire, non venire. Riprovo. Quindi, se li lasciate un pochino pushare... Zawardo! Zawardo? A Pino, do da 5 euro? A Pino, grazie. A Pino, grazie. Senza messaggio, A Pino? A Pino, io ti lecco il mento. Senza messaggio, A Pino, senza messaggio. A Pino, sei bellissimo. Gattivo. Ho sbagliato, volevo fare 500esimi. Ah, peccato. No, niente. Eh, beccato sto cupulone. Ho mandato dei cuoricini. Ah. No. Eh, non sono... Scende gare? No, non è vero, non scende. A che livello si ottiene il potenziamento della ulti? 6, 11, 18, ogni volta che se va a fare il vero della ulti. Eh, no, nel senso di non mi ricordare il livello. Perché mi serve potenziarmi la W. Questo è il problema di Kha'Zix. Quanto cazzo è veloce, Irelia? Ma che è? Ma che mi rappresenta? Guardate che... ...con progetti. Sto qua nella delta. Questa spada qua. Ma se non so quanto abbiano dato di recupero. Non c'è scritto. Eh, vabbè, si soffre. Attento, Ski. Ehi, festa! Quanti? No, va top quello. Bella, Maze. Io non sto facendo veramente una sega. E neanche io, tranquilli, vado avanti, faccio un minion. Ok, ci sono. E manco un minion, posso far male. Posso rallentarla io, se non sbaglio. Cinque minuti di recupero, ha dato. Eh, abbo, è seri alluglietta con 500. No, Warwick. Eh, vabbè, dov'è? Eh, qui in mid stiamo. Eh, vieni al blu. Scende Warwick. Uno, andato, sì. Dove è una osa. No, 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 scende proprio. Come è una osa. Scende, scende Warwick. Non scende. Ora. No! Cazzo. Eh, ciao, Squiff. Mi dispiace. Affancuro, vi faccio tutto quello che mi posso fare. Nulla. Non io faccio nulla. Io faccio tutto quello che mi posso fare. Nulla. Arrivo, Luca. No, sono sotto torre ora, a parte tutto. Posso saltare e flashare. Salto. Flasho. E sono molto uguale. Hai visto come è saltato e flashato te? Esatto. Ah, porca puttana. Arrivo, Masa. Siamo a 5, è vero. Siamo a 5. Aero comunque è un uomo di marketing. È un businessman contro cazzo. Oh, ho fatto il mio primo oggetto. C'è quella con le pinne. Eh, dato sto con le pinne. Quella che io chiamo Naomi. Oh, no, Naomi. Eh, ma guarda che lui corre. Eh, certo. L'ha rentato. Eh, grazie, ma non ci arrivo così in fondo. Ah, ho preso il red. Ma c'hai il puzzo Swiftness, questo figlio. Ho preso il red da Volk. Vale, ah. Ma perché? Beh, io vorrei aiutateci. Airoo. Non succede che non succede, ma se succede, che cazzo ti ho detto di giocavo? Masa, perché non l'hai detto anche a me? Eh, io l'ho detto in TS, su TS. Masa, io non c'ero. Eh, che è un problema mio, scusami. Sì, Masa. Asco. E dire, hey, Dado. Ciao. E che cavolo, ovviamente, chi mi metto. Andiamo, 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 andiamo. No, ho flash. Eh, niente, ho saltato male. Masa, we shied. Oh, no, c'è Irelia. Non è Irelia. Luca. Uh, bella squee. Bellissima di qui. Cazzo, ma ti rendi sconto quando ti ultimo, sì o no? Eh, tazzo. Non mi sembra. Ma perché non mi prende il 2, ragazzi? Non mi prende il Razzonia. Eh, scappavo. Che cazzo, io muoio, se no, non ha vita il mio personaggio. È un assassino. Bella, spui. Eh, pure lei adesso. Non mi prende mai l'ozonia. Oh, ma che cazzo. Dai, ragazzo, mettilo sull'uno. Mettilo su tutto. Prendo le sue cazze di abilità sulle torre. Sempre tutto sull'uno. Puttana, troia. Adesso ti provoco, dai. Prenditi tutti i danni da torre. Prenditevi tutti. Ragazzi, mi giuro che prima di questa level abbiamo vinte tutte. È vero? Pensare che ieri io e Maze abbiamo preso in bot io, S... Quanto era Maze? S-S+, S-S+, ho preso. Hanno fatto il drago. Eh, ci pesevano. Ti provoco ancora, dai. Dai, prenditi tutti. Bella ulti, Maze. Eh, ma... Grazie. Quota cosa? Tanto. Eh, si è fatto cara in tank. Ci denami è il peccato mortale. Di bene, se ne denami di One Piece, sì. Dai, gruppiamo, ragazzi. Prima fare un teamfight. Eh, aspetta. Io al 10 Poi ancora sono depresso per la muta di ricotta Prendetela per quello che è Sono 10-1 Proteggete il cast Ho visto esplodere Oh l'ho rallentato Non è vero, ha flashato Io l'ho spostato ma aprivo il tasto di qui Oh bella Abbiamo vinto il fight Premiamo il 2 invece che il 3 Oh datemi un attimo che ho l'animazione Ok The people aggiornaci per favore Qui mi da un 94 e 20 Guardate Tu c'hai il teleporte, si? Si Ok conservalo che se necessario copri top No Bravo Occhio Bravo genio Clear top Non ha preso l'igno Ignite merda Aspetta, la riuso tanto per Rompola la cosa E io non ho Non ho Palle Io ho 700 di Che cazzo è? Aiuto? Ho dovuto saltare Ehm The people Dopo presto l'ultimo Non ho le mosse Non ho l'ultimo Uh bella Credevo l'avete chiuso A me dà tanto fastidio interrompere Mase è successo Si 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 Liverpool 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 Oh Mamma mia di Pippo grande Mase ha appena vinto 60 euro Do Pippo un appena vinti 130 No, un massimo me ne ha fatti vincere, cento... trenta. Mamma mia di pippo! Io becco! Squeezie becca anche te, è pochissima vita. Grandissimo! Guarda chi si fa! Quanto?! Quanto?! Giocando un euro, ne ho vinti sessanta. Questo è il metodo acchetti. Eh, mi gioco due caffè, vale che va, e bene che va sono due trecento euro. Eh, ci sono... Onne. Maronne. Maronne. Se li tenete sotto torri, io poi li provoco e si prendono i danni da 8 euro. Dagli due pippo! Aspetta, faccio scattare la trappola! Dai li devo perdonare da 50 euro! Ciao due pippo! Eh, ciao! Ok, ho fatto scattare tutte le trappole del... che c'erano. Tu lo sai che quelle trappole se quella voleva attirare un auto-attacco ti spaccava la faccia, sì? Beh, era lontana. Tutti a peli patetiche. Marotta, sì. Non abbiamo un cazzo che vuole andare a nessuna parte. No. One vision! Ah, ma voi avete continuato a pushare? Io ho saputo... ...della scusa. Ah, via, 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 via. E ralga sotto ral! Cosa scusa? E quindi Barzio è pure fuori dalla Champions. La fa mok! Eh? Ma dai, ma non ho preso nessuno. E non ho più la voce di nuovo. Ho preso qualcuno. Occhio! Occhio! Madonna! Sì! 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 Sono veramente... Tata! Cappato. Ciao! Io sono morta. Ecco. Che casino! Che casino! Mase! Mamma mia! Ragazzi! Cazzo! Baron! Si fa il Baron! Eh, ma non siamo tre. Eh, siamo tre. Ma se mi dame un pupone per te lo scudo. Mamma mia. Eh, a te a scudo devo il pupone. Eh. Ma se lo voglio anch'io, però. Vedete, ma se si è rifatti i soldi con cui mi ha pagato oggi... Cazzo! Aspetta, venite qua che vi... ...coso? Vi curo. Ma no, curaci qui dove stanno... Eh, no, non ci arrivo. Non ci arrivo. Mi dimentico che ha un range. Quella cosa. Qua. Andiamo. Eh, matta è fuldita. Ragazzi. Mamma mia! Non fai tardi, vai via, vai via. Me ne vado. Me ne vado. L'ho rallentato e me ne vado. Arrivano, arrivano, arrivano. Marco, vieni via. Sì. A parte 18.000 monete. Drago? Eh, il drago spawn non sarebbe una... Se si fa veloce... Fa veloce, eh. Ma you sure about that? Beh, abbiamo tanti danni. Eh, abbiamo... No, arrivano, no. Che sta arrivando. Vengono, vengono, vengono. Via. Via. Che via. Vabbè, lui muore. Via cosa? Dove? Via. Dove vuoi andare? No? Sento rumori strani. Che cazzo? Era lomba. Portalo fuori. Portatelo fuori. Se non hanno word, non serve. No, no, che l'hanno wordato. Portiamolo fuori. Eh. 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 Non c'è niente. Non ho mosso, non mi faceva fare mosse. Eh, ti ha silenziato. Che cazzo. Cazzo. Ho fatto una cazzata anch'io, voi non avete visto o meglio? Questa è brutta. Eh, sono morto all'inizio io. Panel Baron. C'è un oggetto che non conosco cosa che oggetto sia. Edge of night, ok? Non è vero, sono stupidi. Come? Ah, la curiga è in silenzia. Ma che palle. Tira. Perché vanno mid? Difendono, perché non hanno il mid. Eh, ho capito. Eh, noi se vinciamo il prossimo fight finiamo la partita eh. Sì. Stiamo difendendendo. Anche se lo perdiamo però. No, se lo perdiamo no. Noi abbiamo ancora una torre almeno per me. Se lo avessi silenziato io l'avrei ucciso. Eh, lo so Marco perché l'hai praticamente. E' rimasto senza vita. Pulisco. Mi faccio un red. Datemi un attimo e arrivo. Ah, sai che devo fare invece del cosa? Devo farmi il necronomo. Il morello nobicon. N parola nomi. No, l'hai detto eh. Questo da dove è uscito. Via ma. Ho detto aspettate un attimo. Via via via. Grazie. Dato. 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 Come hai fatto a rubar bene due con una Q. Mase. Non sei fidato? È successo di nuovo Dato. È successo di nuovo Dato. È successo di nuovo Dato. Dato è successo di nuovo Dato. Ho tirato una questo una morte in due. Scusate eh. Se l'ho presa volevo chiuderla. Quanto scudo scusa. Eh lo sera. L'ho rallentato. Ah è un cretino. Lo rilalento dai. Sì l'ho fermato. Eh mi ha usato. Dato basta. Dato basta. Tutti i nano. Vai vinciamola vinciamola vinciamola. Sono fortissimo. Sono un mago nel rubare le kill ragazzi. Mi sento una merda. Minion. Ballo. Io ballo. Ma questo è scemo che cazzo balli. Eh aspettavo i minion. Te lo riporto. Ma no no. Aspettavo i minion. Rallentato. Spero. È mostruoso. Ah. No no no. Eh sì. È un nano. La mia vita se n'è andata. Il nexus il nexus. No. Ma sono vivo. Non sto capendo. Sono l'unico morto. Io non so come sono morto. Ragazzi ho due quattro assist. Bellissima. No ma io ragazzi che partita. Che repugno. Ma se l'avevamo detto cazzo. Cosa c'è? Cosa abbiamo detto. Eh in live non li vincevo. Vogliamo vincere e vinciamo. B. Finalmente si è sfatato il mito che in live non si vince. È vero. Era ora. Mamma mia domanda. Allora durante questo partito è successo che Dupipo è diventato milionario. Ragazzi. Ma se sei dei milionari. io per festeggiare apro una sfera msi 2019 ragazzi che visco che ho fatto 59 minion che ho 3 6 14 5 6 14 ma a c più mi sembra un po poco il pescatore che marco io ho 18 assist ho preso b dai c'è ma che è morti però dai amici it's time for the saluti amici il neo milionario mase mi fai saluti perché si perché si ma se sei milionario 60 e penso se ne giocavi 60 amici allora vi saluto vi ringrazio tantissimo ringraziamo tantissimo il appo per la donazza che sempre un grande uomo appo è un uomo dal grande pisello grande la sua la vista del suo scroto mi emoziona sempre vi ricordo che siamo in live tutte le sere dalle 22 ore 23 più pomeridiana a caso più notturne a caso più cercello a caso vi ricordo che potete andare su telegram per sapere quando siamo in live su instagram per vedere cosa faremo in live su youtube per rivedere le nostre past e rivedere il nostro best of men's here nonché il nostro viaggio a milano e i nostri dei giochini e darci una mano ricordiamo comando pane il comando cercello ciao c'è il comando cercello non lo so improvvisato